quindi possiamo passare alle preferenze ai fini del ruolo dunque indicare preferenze ai fini del ruolo e andiamo quindi a raggiungere le preferenze questa è una sezione che risulta obbligatoria nel momento in cui si vuole entrare in ruolo con contratto a tempo determinato da prima fascia gps sostegno è chiaro che chi vuole poi partecipare pure alla mini call veloce deve esprimere tutte le preferenze deve dimostrare quindi di non aver rinunciato a un effettivo ruolo per poi poter quindi aspirare alla mini call veloce come si fanno ad aggiungere le preferenze le preferenze si aggiungono indicando la gradatoria per cui si concorre in questo caso a dmm sostegno scuola secondaria di primo grado e poi si scelgono o le scuole o il comune o il distretto o la provincia si può andare anche per preferenze sintetiche mettendo per esempio come prima preferenza un comune gradito tipo il comune di il comune di reggio calabria e dunque indicando comune reggio calabria come prima sede facendo avanti confermando e preordinando questa scelta andando dunque ancora avanti e di e scegliendo anche le cattedre orari nello stesso comune anche in comune di diverso si può andare a anche indicare il tipo di posto se per esempio si vuole mettere nella posizione 3 il sostegno psicofisico da queste tre lignette si può trascinare in basso lo psicofisico e far salire l'udito e la vista se invece lo si vuole riportare al primo posto si fa in questo modo e lo psicofisico il sostegno psicofisico torna a essere primo secondo l'udito e terza la vista invece la per la tipologia di scuola ospedaliera carceraria serale e adulti consigliabile proprio per il ruolo per non indicare rinunce indicarle tutte facendo salva queste vengono messe tutte con tipo di contratto chiaramente annuale perché diciamo è un ruolo in questo caso si è dichiarato tutto se si vuole dichiarare poi altri comuni con la stessa metodologia si può tranquillamente fare ma si può anche aggiungere qualche distretto e dunque indicare sempre sul sostegno la tipologia andare sul distretto indicare per esempio il distretto il numero di no qui è andato sulla provincia andiamo sul distretto e indicare quale tipo di distretto si vuole per esempio il distretto 30 il distretto 38 mettiamo questi due distretti facciamo salva andiamo avanti indichiamo per questi due distretti che vogliamo stesso comune e diverso comune per le cattedrario che richiediamo ospedaliera carceraria serale adulti dunque facendo salva abbiamo tutte le tipologie anche sul distretto poi per non sbagliare per essere certi si possono inserire anche altri distretti e dunque possiamo per esempio mettendoli e di mezzo questi distretti dunque dalla posizione vediamo distretto dalla posizione mettiamo personalizziamo mettiamo dalla posizione 3 1 2 3 andremo a mettere in serie tutti questi distretti il distretto 34 il distretto 33 il distretto 35 e andiamo a metterli così andiamo a metterli mettiamo stesso comune comuni anche con i diversi tutte le coe mettiamo ospedaliera serale adulti e così dal posto numero 3 troverete il distretti che abbiamo canalizzato se poi vogliamo mettere a capo il distretto 38 lo possiamo mettere possiamo farlo salire così dopo di che si può anche chiudere con la provincia e in modo tale che non si si risulta per niente rinunciatari per cui sul ruolo noi chiediamo addirittura tutta l'intera provincia mettiamo in coda chiaramente perché è una preferenza molto forte andiamo va messa in coda mettiamo anche sulla provincia le cattedre orarie esterne e mettiamo anche il tipo di scuola ospedaliera carceraria serale adulti così il sistema risulta che tutto è stato diciamo inserito e non si rinuncia a niente poi chiaramente si compilano anche gli altri step e in fase di riepilogo inoltre si troveranno tutti i dati compreso quelli che sono stati inseriti grazie a tutti grazie a tutti